Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, spero tutto bene, tutto a posto stamattina ci siamo svegliati un po' più carichi e voglio portarvi in palestra con me per farvi vedere un allenamento di spalle, sto in fase di recupero come ho detto nei video precedenti sto facendo dei video per quanto riguarda gli allenamenti spero che vi piacciono questi contenuti di workout, mano a mano porterò sempre più contenuti, più allenamenti e via dicendo, oggi è pure una giornata un po' così e così, ora vi faccio vedere dal balcone di casa mia un po' la giornata e poi andiamo direttamente in palestra ecco la giornata ecco la giornata ecco la giornata e No Oh I 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 sempre Ma siccome ieri ho mangiato ho fatto un video dopo lo pubblicherò e la mattina ha detto vado a fare un po' di spalle e spero che questi esercizi per alcune persone quelle che iniziano vi siano d'aiuto e purtroppo nei carichi ragazzi non posso aumentare perché ho avuto un infortunio quindi piano piano sto cercando di recuperare come ho detto nel video precedente dell'allenamento dei torsali dell'allenamento dei torsali e quindi non avendo anche una persona che mi può aiutare c'è un compagno di allenamento al momento quindi farò i carichi opportuni e niente e non ho fatto i posteriori perché già li ho lavorati settimana quindi ho fatto ho fatto ho lavorato tutta la parte anteriore e niente per il resto ragazzi tutto a posto domani no dopo domani mi porterò altri due video che girerò al centro di Roma non vi dico altro e niente ragazzi io vi ringrazio sempre per l'escrizione che fate sul mio canale per le veri visualizzazioni piano piano ragazzi cresceremo sempre di più ve lo assicuro io ce la metterò tutta per portare sempre più contenuti ricordo dell'allenamento e altre cose noi ci vediamo direttamente nel prossimo video se vi fa piacere attivate la campanellina niente ragazzi vi auguro a tutti una buona giornata mi raccomando datevi giù sempre in palestra è bella grazie 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 grazie